Ma benvenuti, benvenuti ovviamente su Atleta TV, perché benvenuti? Perché oggi è il giorno Il giorno che abbiamo aspettato tanto, a lungo, che ci aspettavamo di vivere Possiamo dirlo È di vincere È di vincere Siamo qui per la finale del fucking PG Nationals Ma tu pensi veramente che oggi vinciamo 3-1? Sì O mi stai vogliono in giro? Sì Oggi non ci stanno anticufate Quindi noi avremo il trofeo del PG Aspettiamo, andiamo piano con le cose Io ho detto oggi dobbiamo vincere Io credo nella vittoria C'era un picco che potevi fare Potevi fare quel picco Ma voglio forzare Ci si porti avanti Allo speed tracce Le sue tasche Si riportano avanti Si girano su Oh oh Il grab di Cosplay Per la motore Kerberos Gabbo 1 Contro 5 Cadere Oh oh Questo è buonissimo Che capito di vita Va a prendere l'altra Xonix Gabbo e Xonix Gabbo e Xonix I digati no Quel baro Non la prendete Puoi fare il baro E' finito Gabbo vuole fare ancora una volta Uno contro due Voi lo volete fare l'americana Io la faccio all'italiana Vengo io contro di voi Mamma mia Mamma mia I digiti no E ci possiamo anche girare sul Baron Oh è morto Rarec è morto Clicca al baretto Che lui con i suoi compagni E questo qua A molto probabilmente Sarà Baron Per la teta eSports Sì tranquillamente Sì Con capavolgimenti Di fronte in continuazione Cioè Mamma mia Mamma mia Mamma mia Un cazzo enorme E non ho paura a dirlo Non ho paura a dirlo 5k di vita Dobbiamo flipparlo Lanciamo la volentina Viene grabato Sof Bravo Arriva con la suprima mighty Clicca utilizzando la suprima Per far prendere tempo Gli avversari Cospet Arriva a Clicca con il suo zonio Cos'è che non è che fa il fin di vita Cospet Purtroppo cazzo Porta cazzo Cazzo che clicca E finisce con Xonix Guardi si bella Sazionalmente la corsia E il ferro degli avversari Doppi del nostro mitere Dell'Ucraino E qua Dobbiamo pushare la più centrale Qua Dobbiamo vincere questo primo game Di questa best of five Mamma mia E lo split Mamma mia Mamma mia che bello Xonix blocca con il suo everfrost Ok potrò Fatto vedere su carveros Purtroppo che sia Ok Vincita carveros Settimila cronata Ok Ok Vabbè Prima toy del nexus Second toy del nexus E questo è il primo game Di questa best of five Vischio 1 a 0 Lanza in frenale positiva Enzi intanto vada a aprire google Mentre gioca Eh L'herald Arriva la capocciata Infatti c'è Arriva la cucitura Arriva che è il figlio 6 a 0 E poi vedi Mi direi che non c'erano Non c'erano Prima Mi devono dire Va a slovare soft Viene trovato lo zap Ricordiamo che Qua che ha smittare Quello che è mighty dragon Arriva Oh mamma mia Che culo 36 hp il baron Lo teniamo noi Lo teniamo noi Dobbiamo pushare mid lane Finalmente abbiamo il baron Finalmente abbiamo il baron Ora vogliamo i cioccolatini Perché se qua a boi Ci mangiamo i cioccolatini Come Majin Bu Tu possiamo anche Comunire il drago Il dien volevo dire Click va a mangiare Raresh Utilizzerà il viaggio Ma battola Raresh Utilizzerà il flash Per riposizionarsi Clicker Raresh Arriba anche la catena Quanto di Enzo Traviamo la kill Raresh E qua Col baron Con l'anima Possiamo anche fare Quello che è Il drago Anziano Guardate E si rigira E trova la kill Si salva Allora Non ho più voce Quattro minuti di tiffa Mi prego Ma non è va bene Perché noi Abbiamo perso Secondo conspect Sì abbiamo Otteniamo il progator Da corsia inferiore Otteniamo anche l'inibitore Abbiamo il baron Abbiamo l'anima Abbiamo il drago Dobbiamo forzare Gabbo va a trovare Kermelos Arriva la cucina d'ombra Il fia da parte di Sof Il PNRXONIX Si butta in mezzo Cade Raresh Cade anche Sof Cade uno dopo l'altro Gabbo è leggendario E con questo game Ci portiamo amici miei 2-0 In questa best of five In questa finale D-PG National Drago della montagna A chi fa più comodo A noi A noi per forza Per forza Qua loro devono fare qualcosa Non hanno l'ultimate di click Non hanno la cerchia per blu Gabbo va a fescecare Purtroppo viene bloccato Al cronografo Arrivano con le catene Da parte di Kermelos Con il DPS La vede un'area Con l'entra SONICS Non lo so Fermano di Mighty Dragon Arriva Neverfrost Arriva la Zapp Arriva la Kirl Arriva la carneficina E anche il terzo drago Di questo game Che entra le nostre tasche Da solo Fight contro i Misfits Al quinto game Del primo turno Bella la gabbia Da parte di U Bella Lunaro Non commenta su nessuno SONICS Vai a evitare tutto il DPS Cosper che mi dà HP Arriva l'area Da parte centrale Click va slow while Arriverà anche Gabbo Pronto a lanzare In questo fight Viene schiacciato Kermelos In questo momento E Fidimi deve scappare Gabbo Con la Sionic E si consuma perfetta Per buttarsi In questo momento Click e Misfits Deve scappare Il DPS Tra partire E Fidimi Doppia di Enzo Ecco questo fight Al ventesimo minuto Cerca di prendere il Baron Che dici Fidimi Non voglio dare Questa la offre Proprio E' finito Serebbe caduta C'era una wave Troppo grande Silenzio Che questa potrebbe essere L'ultimo fight Di mappa Di due che Midland cade Arriva dall'alto Il fulmine Da un botto di scelta Allo so Mighty Dragon Abbiamo il barone Nascendo ancora Della nostra Che può durare Ancora 30 secondi Cade anche forse Troppo La boss No resiste Cade l'elibitore Midlane Questa cosa Molto molto buona Sof viene beccato Meta HP Si inizia purtroppo Su nostro exonics Con le sue faci Cade Che è la torre Della prossima Cade 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 Sof Riusciamo a trovare Gioquillo Vischio Calpe lo sfericaggiato Capo Ti portiamo avanti Conosciuti Che non ho più vita Non ho più voce Cade anche l'elibitore Cade anche l'elibitore Vischio Passiamo a continuare Ragazzi Ragazzi L'aiuto Passiamo a continuare Il grab di Sperna A parte di Klik Arriva Bytelegon Disattiva le torri Cade Kerberos Cade Klik Doppio di Cambo Cade Cade Le Lexus Non ho più vince Non ho più voce Sotto torri Siamo campioni d'Italia 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 Vischio Siamo campioni d'Italia Siamo campioni d'Italia Non ho più voce Non ho più voce Mi dispiace Ma sono troppo felice E sarà un nuovo Per festa VG National Fallo del GEO 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 E questo applauso Non è solo i giocatori Ma anche a te Da e-spot E con la giusta maglia del GEO Oggi Vinciamo Il nostro primo campionato Di Serie A Di League of Legends Di League of Legends Italia Vischio 3 a 0 Netto 3 a 0 Netto Pesante Veramente pesante Vincenzi 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 Grazie.